Simone Inzaghi è diventato papà per la terza volta, è nato Andrea, il secondo figlio avuto con Gaia Luca Ariello. L'allenatore, balzato negli ultimi giorni agli onori della cronaca per la possibilità di un avvicinamento alla Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri, è diventato padre del suo terzo figlio, il primo Tommaso, nacque anni fa dalla relazione con Alessia Marcuzzi, il secondo Lorenzo, è il primo figlio avuto dall'attuale moglie Gaia Luca Ariello con cui sta dal 2010, si sono sposati nel 2018 dopo 8 anni di fidanzamento. Grazie a tutti.